Anticipazioni Il Segreto, mercoledì 30 novembre 2016. Donna Franziska, sempre più determinata a scoprire la verità su Berta, cercherà di farsela amica, con la speranza di indurre così la bambinaia a fidarsi di lei. Ma Berta non cadrà nella trappola. Dolores si mostrerà molto preoccupata per la perdita di memoria del figlio Ippolito ed anche per l'importo di alcune fatture arrivate in negozio. Ramiro finirà di mettere a punto il suo piano per salvare Emilia, Prado e Mariana e lo comunicherà alla famiglia, ma non si faranno attendere i colpi di scena. Infatti, al momento della sua consegna ai rapitori, Emilia rischierà di essere colpita a morte. Intanto Carmelo, Severo e Candela si accorgeranno del turbamento di Sol, ma lei si ostinerà a non rivelare nulla. Quando deciderà di confessare che in realtà Eliseo è suo marito?